Cari amici, diremmo Maria buona giornata a tutti sulle 9 e un minuto di martedì 4 giugno 2024. Pace e gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi cari amici il pensiero che vorrei mettere a fuoco è quello che riguarda la virtù della perseveranza che è diciamo così un germoglio che cresce sul ramo della virtù della pazienza che come dice Caterina da Siena la pazienza è il midollo della carità, insomma dell'amore quindi sono tutte collegate. Perché è importante la virtù della perseveranza? Ce lo dice San Paolo, chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Cioè questa è una delle tematiche che emerge spesso nei Vangeli ed è proprio una tematica di cara Gesù Cristo che appunto chiamando al suo seguito i suoi discepoli, naturalmente fra essi ha scelto gli apostoli, poi c'era tutto un popolo che lo seguiva, insomma, fra cui scelse appunto anche i 72 discepoli e poi tutti i collaboratori e quello appunto che emerge in Gesù è proprio la preoccupazione e lo dice in quella affermazione famosa, quella parabola famosa di chi è all'alatro, dice uno che ha messo il mando all'alatro e poi comincia a voltarsi indietro non è degno del regno di Dio, insomma, quindi poi come uno che incomincia a costruire una torre e poi la lascia a metà, cioè non è Dio del regno di Dio. Quindi e poi San Paolo chi persevererà fino alla fine sarà salvo, cioè la perseveranza è quella virtù grazie alla quale noi otteniamo la salvezza. E vorrei anche collocare e collocare questa virtù nella fattispecie, cioè il nostro Zitz in Leben, come dicono i tedeschi, cioè la nostra situazione di discepoli della Gospa che hanno accolto la chiamata e la Madonna si lamenta di questo, cioè molti che hanno accolto la chiamata e poi si sono stancati e hanno lasciato tutto e hanno ricominciato a fare la vita del mondo. D'altra parte questa è anche la testimonianza che dicono tanti di essere stati a Međugorje, di essere tornati con grande fervore, poi pian piano e la mondanità li ha riconquistati e hanno avuto bisogno di una seconda conversione, cari amici. Ora, quindi vedete l'importanza di questa virtù, direi che è fondamentale perché il tempo della vita è un tempo di prova e le prove della vita si susseguono fino all'ultimo istante e questo perché, perché come ha detto la Madonna, diciamo, a parte il fatto che la vita è un tempo di propria volontà di Dio, però Dio lascia anche al principe di questo mondo la possibilità di giocare le sue carte e come la Madonna ci ha ribadito più di una volta, Satana non dorme. E quindi quando tu hai incominciato il tuo cammino lungo la via della salvezza, lui ti assedia in vari modi per farti desistere dal cammino, per farti voltare indietro. E quindi, diciamo, lui e soprattutto i suoi alleati, quali sono i suoi due alleati, la carne e il mondo? Cioè, quando tu ti sei messo sulla strada, diciamo, della preghiera, della fede, della mortificazione, della rinuncia al peccato, Satana soffia, prima di tutto sulla tua carne, sui tuoi vizi che rispuntano. I vizi sono come delle serpente affamati che se non li nutri incominciano a sibilare dentro di te e cioè se non li soddisfi, se improvvisamente tu decidi di cambiare vita, di dire no a quello che il mondo ti offre e di cui tu nutrivi i tuoi vizi, le bocche dei tuoi vizi capitali, quelli rimanendo a digiuno incominciano a metterti in subbuglio, ad agitarti dall'interno e anche agitarti nella mente, per cui quello a cui tu avevi rinunciato ti appare una cosa che non puoi proseguire oltre e quindi devi ricominciare di nuovo a mangiare quello che mangiavi prima e cioè l'effimero, quell'effimero peccaminoso col quale Satana ti porta alla morte. E qui, cari amici, è necessaria la resistenza. La resistenza proprio, cioè il combattimento spirituale, la resistenza nell'attimo, nel dire no alla tentazione, nel dire rinuncio a Satana, nel dire vattene Satana, nel dire Gesù ti amo sopra ogni cosa. Sono quei momenti, diciamo, sono quei momenti di combattimento spirituale che possiamo pagonare a Gezzemani, che sono sudori di sangue molte volte e Satana gioca molto su questo, come ci testimonia per esempio l'autobiografia di Sant'Ignazio di Loyola, come già vi ho raccontato, perché mi aveva sempre colpito questo tipo di tentazione che Satana rivolgeva a D'Ignazio che improvvisamente aveva lasciato il mondo, la vita del mondo, era un militare ma era anche nella società, diciamo, nella società che conta, nella società borghese o se vogliamo nobile. E a un certo momento si è trovato, ha voluto incominciare, una vita di rinuncia nel mondo e aveva 35 anni e diavolo gli diceva tu pensi di perseverare, di andare avanti altri 35 anni, con tutte queste rinunce non ce la farai mai. Allora la vita era stimata sui 70 anni, su un po' di più. E questa era una tentazione che agitava il cuore di Sant'Ignazio e quindi se è diventato santo e ha fatto quello che ha fatto è perché ha saputo dire rinuncio. Allora, cari amici, c'è il momento della resistenza che è quello già anche previsto dal Vangelo, cioè quando tu hai cagato via il diavolo, va a cercare sette spiriti più forti di lui e riproponere l'assalto, vuole riprendersi l'anima. C'è il momento della resistenza che è anche il momento, diciamo, del Gezema, li possiamo dire, quando Gesù vince la sua battaglia dicendo padre chiede che sia allontanato quel calcimi dolore, non sappiamo quale che era esattamente, forse era non lì tanto la sua passione quanto l'inutilità della sua passione per molte anime, ma poi dice sia fatta non la mia ma la tua volontà, si alza forte, fortificato e affronta la passione come sappiamo. Così, cari amici, anche noi dobbiamo essere, come dire, determinati nel momento del ritorno di Satana, quando abbiamo cambiato vita, quando abbiamo fatto i propositi, determinati. Poi però questa determinazione dobbiamo tenerla accesa e dobbiamo riproporla ogni giorno. E c'è questo livello, cari amici, chi l'ha sperimentato lo sa bene, che se tu nel primo salto di Satana sei stato forte, il giorno dopo o qualche giorno dopo, a seconda di come Dio ministra le tentazioni, perché anche Dio, cioè, vede sulla tentazione ovviamente, non permette a Satana di tentarti di sopra delle tue forze, allora, però la seconda volta che Satana ripete l'assalto e tu vinci, tu diventi più forte. La terza volta diventi più forte ancora. E andando avanti così, cioè inannellando le vittorie con perseveranza un giorno dopo l'altro, c'è il momento in cui tu ti stabilizzi, come dire, nella virtù, ti stabilizzi nella tua decisione. E Satana non riesce più ad agitarti, a mettere in questione, non riesce più a smontarti, diciamo, la determinazione. Con la quale vai avanti e arrivi in uno stato, come dire, di fortezza. Non essere presuntuosi, perché ovviamente con la fortezza in cui sei arrivato è la somma della tua volontà e della grazia di Dio, soprattutto della grazia di Dio, perché Gesù ci ha detto senza di me non potete far nulla. Allora, la virtù della perseveranza è quella virtù che ti porta a ripetere la determinazione, istante per istante, ora per ora, giorno per giorno, notte per notte, settimana per settimana, mese per mese, anno per anno, fino all'ultimo istante della tua vita. Perché solo chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Qual è la tentazione che ci rimproverà la Gospa, cari amici? E' proprio questa, cioè molti di quelli che sono stati chiamati a Međugorje, hanno sperimentato la grazia della conversione e poi non hanno perseverato. Si sono di nuovo persi. Per essi è necessaria una seconda conversione. Come ci ha detto nell'ultimo messaggio, guarda, mi ci voglio il 25 maggio, è un messaggio un po' particolare perché, diciamo, il 25 agio è il 25 aprile. Vediamo un po', ve lo dico subito meglio. Sì, no, è il 25 aprile. Quando la Madonna dice che Satana è forte e ogni giorno la sua forza è sempre più forte, attraverso coloro che hanno scelto la morte e l'odio. Ecco, così, cari amici, quello che avviene per Satana, che man mano che acquisisce nuovi adepti diventa sempre più forte, e questa è una legge, questa, del combattimento spirituale, anche per noi è la medesima cosa. Cioè, man mano che noi assommiamo le vittorie, entriamo, diciamo, in una situazione di stabilità nel combattimento spirituale, per cui le cadute poi diventano sempre più rare. Quello che volevo invece sottolineare è, diciamo, l'invito alla conversione. Cioè, uno che poi, uno che poi, appunto, come vi dicevo, resiste qualche giorno e poi di nuovo riprende la vita di prima. Per quelli è necessaria una nuova conversione. Come ha detto la Madonna l'ultima volta, ha detto, perciò convertitevi, filoli, siete ancora lontani, cioè vi siete persi per strada, avete lasciato il combattimento spirituale. Poi la Madonna dice, perciò convertitevi di nuovo. Noi, nella traduzione, abbiamo aggiunto sempre di nuovo, perché siamo misericordosi con noi stessi, ma la realtà, Madonna l'ha detto così. Ha detto, perciò convertitevi di nuovo e scegliete la via della santità. Questo per tutti quelli che ha voluto la grazia essere chiamati a Međugorje e poi, diciamo, ha dissipato la grazia. Ma è anche, diciamo, è anche per noi che stiamo andando verso il tempo dei segreti. Noi non sappiamo quando incominciare il tempo dei segreti, cioè diciamo pure che il tempo dei segreti è già incominciato. Lo vediamo nel mondo, vediamo che il mondo va verso la terza guerra mondiale, basterebbe questo. Vediamo che nel mondo abbonda sempre più l'iniquità, la cattiveria, l'incredulità, l'odio verso Dio e verso il prossimo. Quindi è chiaro che il tempo dei segreti si avvicina, però quante persone in questi anni, sono 43 anni, hanno perseverato dall'inizio fino adesso? Mi ricordo i pellegrinaggi degli anni 90 a Međugorje, i fiumi di italiani, prima di tutto gli italiani, poi man mano ci sono diradati, sono venuti i polacchi, quelli del centro Europa, adesso arrivano, venivano anche gli americani, parlo degli Stati Uniti, cioè io ho visto, ho visto che, sì, le ondate si sono ripetute, ma nell'insieme, nell'insieme non hanno mantenuto le promesse, cioè non è che voglio fare i conti, sarà la colpa del Covid, ma anche adesso a Međugorje non so se si arriva a due milioni all'anno di pellegrini come si arrivava prima del Covid, per me si arriva alla metà, per quanto riguarda gli italiani sicuramente alla metà, cioè molti si sono disaffezionati, molti, come dire, si sono ritornati alle distrazioni del mondo, ma adesso, cari amici, la figura qual è, la figura che facciamo, è quella delle vergini, quelle estolte, che non avendo portato con sé l'olio, quando arriva lo sposo, è tardato fino a mezzanotte, ecco lo sposo, loro ha le lampade spente, e così adesso c'è il rischio che si arriva nelle vicinanze, nel tempo dei segreti, siamo già, a mio parere, alle porte, perché qui il tempo ormai non è più di mesi, di anni, il tempo è qualcosa, cioè, conta la densità degli eventi, e la densità degli eventi che arrivano insieme all'appuntamento, e che poi può esplodere improvvisamente, e questo è il contesto della situazione mondiale in cui ci troviamo, si danno all'appuntamento una serie di eventi per cui il mondo potrebbe esplodere di momento all'altro, anche se sappiamo che c'è una provvidenza comunque che guida tutto, e noi rischiamo, dopo tanti anni che abbiamo seguito Međugorje, ci siamo raffreddati, ci siamo, come viene negli ultimi tempi, ci siamo comunque intiepiditi, e quando è il momento non siamo pronti, cioè ci è mancata la virtù della perseveranza, che è la virtù dei forti, è il segno della fortezza di una persona, cioè se tu vedi che una persona persevera nel fare il suo dovere, nel fare le sue cose, nelle sue convinzioni, nel servire Dio, nel lavorare per il regno di Dio, se tu perseveri, come dire, davanti a Dio hai una grandezza che magari il mondo lo vede, ma Dio la vede, e di Dio di te non solo si fida, ma sa che può fidarti anche in prese difficili, perché tu hai perseverato, ma di quelli che un po' ci sono, un po' non ci sono, cosa vuole che faccia il Signore? Come dice San Paolo, parlando di un suo collaboratore ritornato al mondo, mi è sempre sembrata una sentenza di morte, quindi cari amici, chiediamo a Madonna la grazia e la virtù della pazienza, della fortezza e della perseveranza, su virtù fondamentali oggi, su virtù da praticare ogni giorno, la cosa bella, sapete qual è? Che più le pratichi più diventi forte, più le pratichi più diventi affidabile, più le pratichi e più sei una, come dire, una persona della quale Dio si può, Dio si può, come dire, ti può prendere al suo servizio per imprese sempre più grandi. Entriamo dunque in questa prospettiva, perché comunque la vita è breve, e dobbiamo arrivare, alla fine, al traguardo, perché uno che non arriva al traguardo, è passato a una corsa di Formula 1, come avveniva una volta, a volte avveniva che le macchine, a volte, si fermavano a un metro dal traguardo perché erano senza benzina e perdevano il gran premio. E così può accadere anche a noi, cari amici, se ci manca la benzina, cioè la preghiera, la grazia dello Spirito Santo, la forza di Dio che si ottiene attraverso, appunto, la preghiera continua. E con questa esortazione, cari amici, a perseverare fino alla fine del combattimento spirituale, giriamo pagina, e adesso, cari amici, vorrei, come dire, nella mia teologia della storia che faccio, vorrei spendere qualche minuto per un evento che si celebrerà solennemente fra poco, il 6 giugno, che è lo sbarco in Normandia 80 anni dopo. Dunque, il motivo per cui ho voluto parlare di questo evento, leggeremo un articolo, un premio, ma bello, bello che fa un quadro della situazione, perché in questi giorni, naturalmente, in Russia si è celebrato il giorno della grande vittoria, appunto, nella Seconda Guerra Mondiale, e Putin si è attribuito tutto a sé, cioè ha vinto la Russia, gli americani, gli inglesi, ha vinto la Russia, la Seconda Guerra Mondiale, con il nazismo, è russa, la vittoria è russa, ora, per chi conosce bene la Seconda Guerra Mondiale, e noi italiani la conosciamo poco, anche perché siamo la parte perdente, comunque, non è che ci piace molto, forse, ma in realtà, questo sbarco in Normandia, è stato fondamentale, perché la Russia non soccombesse a Hitler, io mi ricordo di aver visto, proprio un documentario, molto interessante, di grandissimo valore storico, dove c'erano, nel 1943, erano di rimente, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, lo dico anche perché i nostri ascoltatori, magari sanno pochi, così imparano qualcosa, insomma, perché la maggior parte delle nostre persone, sono anche gente di casa, insomma, persone anziane, eccetera, però a loro sono interessate a conoscere come vanno le cose. e appunto, i primi anni della guerra, cioè da 1938, al 1943, avevano dominato i tedeschi, perché incomincio da 1938, perché è l'anno in cui apparve quel famoso segno, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che era l'aurora boreale, di cui parola Madonna Fatima, come segno che Dio puniva il mondo con la Seconda Guerra Mondiale, e 1938 per quel motivo, perché nel 1938, la Russia, cioè Stalin e Hitler, cioè la Russia e la Germania, nazista, si mesero d'accordo, non tanto per spartirsi la Polonia, come si è sempre detto, ma come si è saputo recentemente, da documenti trovati negli archivi, e forse Paolo Miele Vidria qualcosa, diciamo, ne ha già parlato questo riguardo sul Corriere, e in realtà Stalin e Hitler si erano accordati nello spartirsi tutta l'Europa, cioè si erano accordati che Stalin si prendeva a metà Europa, quindi quella che si è presa dopo la guerra in pratica, e Hitler si prendeva tutta la parte occidentale dell'Europa, quindi si erano messi d'accordo. Evidentemente Hitler pensò che aveva forze sufficienti per sordi essere più forti di Stalin, in parole povere, quindi non stette a quel trattato, a quel trattato, diciamo così, fatto in gran segreto, e attacco la Russia. La Russia ha resistito per un po' di tempo, però ci fu un momento in cui da sola non poteva più reggere le forze del Reich, i quali 448 si era in padronito dell'Europa, quindi, diciamo, la Russia era alla sua mercè. Fu in quell'occasione che si trovarono insieme, e qui ho visto proprio il video e anche le parole che si dicevano, Stalin, Roosevelt, che era il Presidente americano, e Churchill. E fu Stalin che insistette, ma quasi supplicando, insistette perché ci fosse lo sbarco degli angoli americani in Normandia per aprire un altro fronte in modo tale che i tedeschi dovesse portassero via una parte del loro esercito e dalla Russia li mettesse sul fronte occidentale. Oddio che Stalin fa i suoi comodi. Churchill era contrario. Perché era contrario? Perché lui pensava, come aveva ragione, che se gli americani invadevano la Francia come poi successe e i francesi non l'avrebbero presa bene e così fu. Difatti i francesi ancora adesso hanno un pregiudizio antiamericano. E la medesima cosa è successa all'Italia perché gli americani sbarcarono in Sicilia e cominciavano ad avanzare ma gli italiani non l'ha mai presa bene questa storia che si fossero americani sul loro territorio oltre ai tedeschi e quindi anche in Italia è rimasto un pregiudizio antiamericano che c'è tuttora. Allora, cari amici, però, prevalse la tesi di Roosevelt di cui riuscì a convincere gli americani che non avevano tanta voglia di entrare in guerra a organizzare lo sbarco in Normandia. Questo sbarco fu un atto di eroico incredibile per i costi umani che ci furono però la Russia se ne è dimenticata senza questo sbarco in Normandia la Russia avrebbe mai vinto la guerra però come Putin ha deciso ha deciso che lui ha già deciso è stato il primo atto che ha fatto dopo la sua rielezione tutta la storia della Russia deve essere riscritta in chiave russa e quindi come una una storia dove appunto la Russia realizza nel tempo la sua vocazione di diventare impero mondiale questo è quello che ha in testa ovviamente stavolta però non so chi la aiuterà forse la Cina forse la Cina ma non c'è dubbio che senza i americani e gli inglesi non sarebbe arrivata da nessuna parte la Russia sarebbe crollata è quello che volevo dirvi perché mi stava solo a dire questa cosa qui e adesso vi leggo questo ovviamente i giornali celebrano questo giorno del 6 giugno lo sbarco in Ormandia vediamo di che si tratta per molti che non lo sanno perché non è che abbiamo una conoscenza storica anche dell'ultimo secolo anche i nostri ragazzi a scuola non so quanto la studino io non lo studiavo cioè io non l'ho avuto al liceo neanche all'università si studiava il passato ma talmente passato che non conoscevamo il presente invece il presente va studiato a fondo quella storia moderna non è quella dell'ottocento è quella del novecento e anche del duemila allora vediamo questo articolo sul Corriere della Sera di Stefano Guerrera che scrive al via delle celebrazioni in Francia con i capi di stati e di governo ma senza Putin che non è stato invitato cioè neanche lui ha invitato gli occidentali qualche settimana fa per la celebrazione in Russia esistono date che cambiano la storia il 6 giugno 1944 il giorno dello sbarco degli alleati in Urlandia è una di queste date la più grande operazione militare della storia composta da statunitensi inglesi canatesi e francesi iniziano la liberazione della Francia dal regime nazista tedesco di Hitler a 80 anni a quell'evento è apocale sono previste sulle cerimonie vicino alle 5 spiagge teatro dell'operazione di Overlord mentre questa sera eccetera eccetera i programmi degli altri non ci interessano i numeri dell'attacco furono impressionanti più di 150.000 soldati quasi 7.000 navi da guerra e oltre 10.000 aerei furono impiegati per travolgere bunker casemate fortificazioni nazise sulle coste normanne regista dell'operazione fu il comandante Eisenhower futuro presidente degli Stati Uniti durante i mesi precedenti allo sbarco l'avversione aveva presentemente bombardato in nord della Francia per preparare lo sbarco alle 6.30 del mattino di quel 6 giugno sotto un cielo plumbeo primi paracadutisti poi i mezzi anfibi degli alleati assaltarono 5 spiagge chiamate con i nomi in codice di Utah Omaa Junior Gold e Sword Omao Avic come fu soprannominata divenne il luogo simbolo lì o Maldieri sbagliarono una mira e lasciarono le difese tedesche intatte risultato un morto ogni 3 secondi un migliaio di morti in poco più di un'ora l'intera 29esima divisione venne massacrata prima di mettere i piedi sulla spiaggia solo i veterani della prima divisione Big Red One che si armano a rampicare non coraggiosamente sull'alcoliera riuscirono a far saltare in aria i bunker del nemico in un giorno di combattimenti furono quasi 10.000 i morti erano tutti americani e in parte americani inglesi D-Day significa acque della manica tinte di rosso sangue quelle delle cintinaia di soldati come mostra il film salvato il soldato Ryan D-Day significa giovani ragazzi annegati perché trascinati dal peso dalle loro uniformi e schiacciati dai mezzi anfibili ribaltati su di loro D-Day significa militari caduti sulla sabbia crivellati dai colpi dalle mitralgici naziste ci fu un disastro lo sbarco insomma il fracasso di bombardamenti mitralgiatrici fu la colonna sonora anche delle settimane successive che portarono alla liberazione di Parigi il 25 agosto 1944 combattimenti casa per casa strada per strada e interi paesi spazzate via come Vierville sul mare mentre gli alleati avanzavano in Orlandia puntando verso la capitale francese gli anglo-americani risalivano in Italia centrale appena dopo aver liberato Roma il 4-5 giù del 1944 e a est i suoi vedi ci stavano ricacciando indietro i tedeschi costringendoli a ritirarsi dalla Bielorussia e Polonia quindi questo sbarco aveva fatto sì che l'Italia dovesse riportato molte divisioni in occidente e quindi i sovietici hanno cominciato a riprendere terreno i nazisti si trovarono così in quei mesi stretti in una mossa a Tenalia attaccati da ovest da Roosevelt e da Churchill e da est dall'armata rossa di Stalin una tragedia quella della guerra in Europa che avrebbe avuto il suo epilogo nell'aprile dell'anno successivo con la caduta dalla Germania di Berlino con il suicidio di Adolf Hitler quindi il 1945 questo durante la battaglia di Urlandia migliaia di civili francesi persero la vita con Macaen dove i cittadini rimasero sepolti sotto le macerie è chiaro che bombardando gli americani bombardavano i tedeschi però i tedeschi erano nelle case dei francesi e quindi molti francesi furono civili i francesi persero la vita molti furono fucilati perché sospettati di collaborazionismo con il regime nazista c'era il governo di Petain in Francia che era un governo fantoccio collaborazionista di Hitler quindi la parte degli americani in Francia vuoi per i bombardamenti vuoi per le fucilazioni eccetera poi anche le donne alcune delle quali furono violentate dagli alleati quindi come in molte altre storie di guerra non mancarono furti nelle case ad opera dei soldati e neanche errori militari come il caso dei sinalatori di fumo giallo che per le truppe canadese significavano aree da non bombardare mette per gli americani di zona da colpire quindi molti morirono a caso di questo errore e uditi i rumori di aerei i militari superstiti gridavano a riparo potrebbero essere i nostri quindi chiaro che come dire tutte queste cose hanno creato risentimenti alla popolazione francese come li ha creati nella popolazione italiana soprattutto gesti che i italiani non hanno mai perdonato come un bombardamento di Montagassino anche se poi gli americani l'hanno ricostruito le celebrazioni del lontanesimo anniversario dello sbarchio di Romandia sono già iniziati ieri con fuochi d'artificio che hanno colorato il cielo e lo sopra quelle spiagge dove oggi si ascolta solo il rumore delle onde le cerimonie dureranno una settimana il Presidente della Repubblica Emanuele Macron ha invitato numerosi capi di Stato e di governo ci sarà il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in carcine tedesco Olaf Scholz il Presidente Ucraino Zelensky il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Russia non è stata invitata la famiglia reale inglese partecipa agli eventi dell'anniversario anche la famiglia reale inglese partecipa agli eventi dell'anniversario questo guarda amici dunque questo guardo anni indietro cosa ci dice ci dice che dopo 80 anni dove a parte guerre locali qua e là però diciamo a livello mondiale si è goduta una certa pace insomma fosse fondata sulla deterrenza delle armi in quanto gli armetti nucleari da una parte e dall'altra hanno creato un equilibrio del terrore cosiddetto però insomma alla fine alla fine non ci sono state guerre in cui sono state direttamente coinvolti Russia e Stati Uniti adesso i carabellici siamo in una situazione in cui purtroppo la terza guerra mondiale è possibile anzi secondo il Papa è già incominciata perché quella della Russia in Europa e poi quella che in Medio Oriente che poi è stata scatenata dagli alleati della Russia che sono amasse l'Iran alla fine e quindi diciamo parlare di un terzo conflitto mondiale sia realisti possiamo dire così e andiamo verso uno schieramento che ormai si sta delineando nel mondo che è quello da una parte dell'Occidente e dall'altra sicuramente un'alleanza che riguarda la Russia la Cina l'Iran e la Corea del Nord e così certamente sono congiunti già ora da una forte collaborazione a livello militare e anche a livello politico insomma quindi diciamo l'elezione della seconda guerra mondiale è stata dimenticata solo che la seconda guerra mondiale è finita con le bombe atomiche per far desistere il Giappone dalla resistenza e adesso si minaccia le bombe atomiche già sono state minacciate dalla Russia già due anni fa e questa minaccia viene ripetuta continuamente quindi quello che si profila è qualcosa di pauroso giustamente il Papa ci ha tante volte messo davanti la situazione del mondo come potrebbe essere con queste minacce di bombe atomiche questa dunque è la situazione attuale per la quale noi almeno noi sappiamo che Dio ha trovato l'antidoto inviando la Madonna l'ha inviata per attuare la promessa di salvezza che ha dato a Fatima nel 1917 la Madonna aveva profetizzato la seconda guerra mondiale se il mondo non si fosse convertito e se la Russia non fosse stata consagrata al suo cuore questo non è avvenuto è avvenuto la seconda guerra mondiale cari amici però la Madonna Fatima aveva preannunciato che alla fine il suo cuore immacolato avrebbe trionfato e che alla fine la Russia si sarebbe convertita cari amici adesso quello che ci domandiamo è che cosa succederà prima di arrivare al trionfo del cuore immacolato di Maria questa è una è una domanda che ci facciamo e io mi chiedo chi di voi chi mi sa dire chi oggi al mondo sarebbe in grado di di scongiurare una guerra mondiale chi di voi secondo voi chi forse ci sarebbe qualcuno ma questo qualcuno sarebbe l'anticristo se fosse se fosse vera l'immagine dell'anticristo come quelli che dà la falsa pace potrebbe potrebbe anche essere che nel tempo dei segreti prima di arrivare nei sconvolcimenti dal quarto al decimo si stauri una pace mondiale fondata su un patto scelerato che l'anticristo stesso riesce a far stipulare fra Oriente e Occidente non si può escludere niente perché non abbiamo nessuna conoscenza del futuro cioè noi sappiamo che alla fine il cuore immacolato trionferà ma poi per quanto riguarda la geopolitica le alleanze gli eventi le guerre non sappiamo nulla forse l'unica cosa che sappiamo del tempo dei segreti è che è più la chiesa che il mondo quindi più la chiesa che diciamo le guerre e per chiesa intendiamo il terzo segreto di Fatima con la grande persecuzione che è congiunta anche alla grande come si dice perché la persecuzione perché la chiesa è rimasta fedele a Cristo e quindi la persecuzione e invece ci saranno quelli che invece tradiscono e cedono alle suggezioni dell'anticristo non lo sappiamo cosa accadrà però c'è una serie di profezie mariane non che è inutile che cerchiamo di è inutile che cerchiamo di scacciare come le mosche che diamo fastidio il tempo che abbiamo davanti è un tempo di grandi prove è un tempo di cui abbiamo bisogno della Madonna senza la Madonna sarebbe la fine del mondo senza la Madonna sarebbe una strage universale senza la Madonna ma Satana vincerebbe e quindi la Virginia della Pace è qui come possiamo noi cari amici declassarla immarginarla svoltarne il significato tutte quelle manovre che abbiamo fatto anche prima perché se la seconda guerra mondiale c'è stata perché noi abbiamo fatto le manovre esattamente che stiamo facendo adesso di non ascoltare la Madonna e tutto quello che ne segue e allora è successo quello soprattutto è mancata la conversione manca la conversione manca come dire la fiducia in Maria manca questa adesione tale per cui si può ottenere si sarebbe potuto ottenere che non ci fosse stata la seconda guerra mondiale come no e non si è fatto cioè Madonna ha detto se il mondo si convertirà ovviamente se la Russia viene consagrata dal mio cuore immacurato non ci sarà la seconda guerra mondiale e invece c'è stata anche per mancanze nostre quindi non ripetiamo non ripetiamo gli errori pensando che non abbiamo bisogno della Madonna non lo so io non dico altro per questo diciamo capitolo che riguarda il il 6 giugno che comunque è collegato alla situazione presente e adesso cambio non cambio argomento però giro pagina perché c'è un nostro ascoltatore che comunque critica giustamente per me sul piano diciamo razionale non ha torto a criticare quello che io sostengo ho sostenuto e sostengo perché è una perché è la Madonna stessa che lo dice e la metto a Fatima ma anche ma anche a Medjugorje insomma che la Russia sarà protagonista una protagonista anticristica del tempo dei segreti fino al decimo segreto quindi questo lo sappiamo perché ci ha rivelato Dio insomma ci ha rivelato la Vergine Maria direttamente a Fatima e indirettamente a Medjugorje perché ha detto sono venuto a realizzare ciò che ho iniziato a Fatima invece questo un ascoltatore che si chiama Paolo mi fa notare come se non l'avesse notato che la mia teoria la mia ipotesi che il tempo dei segreti sarebbe stato caratterizzato dalla parabola anticristica della Russia è impossibile da punto di vista geopolitico che si realizzi perché la Russia di fatto si è impantanata in Ucraina e non si vede come ne uscirà fuori come potrà dunque essere la Russia protagonista nel tempo dei segreti mi chiede Paolo vi leggo questa sua email perché è interessante tutte le obiezioni che fa hanno una ragione d'essere però poi rischiano di portare a una conclusione pericolosa cioè che alla fine la Russia non è pericolosa alla fine la Russia è impantanata lui che arriva arriva da nessuna parte e quindi noi in qualche modo come dire ci adagiamo in quella tranquillità che in questi tempi è una cattiva consigliera ora vediamo cosa scrive Paolo carissimo padre Livio anche se preferisco di gran lunga prepararmi con la preghiera i digiunni e i degi segreti bravissimo mi capita però ogni tanto di pensarci partendo quasi sempre dalle sue riflessioni sul ruolo della Russia in questo contesto storico drammatico benissimo penso spesso che anche all'ipotesi dalle fatte circa più o meno il momento in cui potrebbero verificarsi i segreti e fino a quando con la data dalle ipotizzate nel 2033 come fine della grande tribolazione e come il trionfo del cuore immagato di Maria e anche io più o meno la penso così cioè il suo ragionamento è questo lei ipotizza la fine dei segreti nel 2033 sì però veloce 100.000 volte che questa data è il 2000esimo anniversario della redenzione per cui sarebbe ottima per il trionfo del cuore immorato di Maria però è chiaro che non sappiamo niente insomma quindi lui dice però lui dice secondo lui i conti non tornano perché la Russia sta dimostrando che se gli occidentali avessero fornito più armi all'Ucraina alla fine la Russia non avrebbe combinato niente ma anche adesso in questo stato ha combinato ben poco insomma in Ucraina perciò di cosa dobbiamo avere paura insomma per il futuro allora però alcuni conti non mi tornano e le spiego quali l'invaggio da parte della Russia dell'Ucraina iniziata nel 2022 i russi sono ancora lì che faticano per un piccolo lembo di terra poi perso e poi ripreso poi una volta fatta fuori l'Ucraina ci sono la Lettona l'Estonia la Moldavia la Germania l'Est eccetera eccetera sono due anni che Putin fatica con l'Ucraina con un dispigno di vite umane e sofferenze in mani si calcolano 500.000 i morti o feriti russi in questi due anni due anni solo per un pezzo due anni solo per un pezzetto di terra il triunfo del cuore immacolato di Maria come penso e spero arriverà nel 2033 ma se Putin ci ha messo due anni per un pezzo di terra in Ucraina quanto ci metterà nell'affrontare e vincere tutte le nazioni sopra cittate dal 2024 2033 non manca molto cioè nove anni di questo passo Putin si pagherà vent'anni prima di prendersi tutto ciò che molti ipotizzano che voglia prendersi a meno che non succeda qualcosa che nessuno può prevedere e che solo la Madonna può conoscere e se sta in mezzo a noi da ormai 43 anni penso che ciò che ci aspetta siano cose molto terribili non voglio con questo ipotizzare che la Russia userà armi atomiche per raggiungere i suoi obiettivi le hanno anche le altre nazioni le bombe atomiche Putin lo sa dico solo che la questione in ballo è molto intricata ma la Madonna ci ha dato la chiave di lettura di questo contesto storico apocalittico cioè satana regna e vuole suggere tutto vite umane e pianeta anime e creazioni ci riuscirà penso di no altrimenti non potrebbe esserci un trionfo nel cuore democrazio di Maria o meglio qualcosa verrà distrutto sì ma non tutto ci sarà spazio per la rinascita di un mondo nuovo dove regnerà Cristo vittorioso e sua madre regina della pace come quando e dove si verificheranno i deci segreti che porteranno alla distruzione del regno di satana è una cosa che solo la Madonna lo sa a noi tocca urgentemente pregare di giunare e soffrire e soprattutto perseverare in questo cammino di conversione che la nostra madre ci ha indicato urci la perseveranza come non mai Paolo ovviamente proprio la finale è quella che mi trovo più d'accordo cioè la perseveranza nella fede nella preghiera perché questo è un combattimento fra la Madonna e Satana le armi della Madonna sono la fede la nostra pazienza la nostra perseveranza e il rosario in mano insomma allora cosa voglio cosa rispondo io a questo che è scritto Paolo beh ovviamente la prima cosa che va ribadita è che quello che la Madonna dice è da pensi molto sul serio cioè non c'è dubbio che la Russia sarà protagonista nel tempo dei segreti fuori discussione perché se no non si convertirebbe neanche alla fine si converte perché eventi che forse le stesse ha causato faranno sì che il popolo russo lascerà la sua casta che l'ha portato alla guerra mondiale e si convertirà e quindi questa è una certezza che la Russia sarà il protagonista nel tempo dei segreti e che alla fine si convertirà questa è una certezza come questo avvenga non sappiamo niente ma veramente non sappiamo niente l'altra cosa che asserviamo di certo è che la Chiesa avrà una grande persecuzione questo lo dicono i vegeti di Međugorje questo è nel segreto di Fatima poi a livello della geopolitica noi non sappiamo nulla sappiamo quello che ci chiede la Madonna e cioè che se noi perseveriamo nella fede nella priera vinceremo con lei e la Chiesa vincerà con lei e la Chiesa tronferà con lei questi sono i punti fermi che noi che noi deduciamo dalla presenza della Madonna da Fatima a Međugorje tutto il suo piano è questo è quello di fare il suo cuore immacolato sulle pretese della Russia di dominare il mondo o sulle pretese dell'uomo di dominare il mondo perché anche la Cina vuole fare uguale anche l'Occidente vuole fare uguale vuole dominare il mondo al posto di Dio allora la Madonna vincerà su queste pretese dell'umanità di fare dominare Satana al posto di Dio perché poi se l'uomo è al posto di Dio vuol dire che è Satana al posto di Dio la metto alla Madonna queste sono le cose sicure non non seguiamo la geopolitica per tirare le conclusioni perché sbaglieremo perché basterebbe poco per far saltare tutto quello che noi vediamo faccio un esempio ieri leggevo ieri leggevo non mi ricordo più che giornale leggevo insomma ne ricordo tanti che poi non mi ricordo più dove forse era il Corriere che non escludeva la possibilità di una guerra civile negli Stati Uniti effettivamente questa è una cosa che si dice da tempo ma effettivamente attualmente anche con il processo fatto a Trump che ovviamente ha incendiato i cuori da una parte e dall'altra insomma ti mette di fronte un'America che come è già fatto una volta non dimentichiamo rischia di andare incontro a una guerra civile sanguinosa anche perché le guerre civili sono le peggiori di tutte un'America con la guerra civile è un tappeto rosso per la Russia che avanza non c'è dubbio a riguardo quindi vedete che basterebbe una cosa faccio un esempio come questo per di che tutti i nostri ragionamenti geopolitiche saltano come pure non dimenticate che a Cività Vecchia c'è stata una mini rivelazione sulla prossima guerra mondiale che potrebbe essere una guerra atomica ma che possiamo scongerare con la preghiera questo è il messaggio di Cività Vecchia che vede di fronte l'Occidente e l'Oriente noi sappiamo cos'è l'Occidente insomma è una parola che ho usato già alla Madonna a Medjugorje questa l'Occidente e l'Occidente l'Oriente è la Russia più la Cina e io metterei anche più l'Islam quindi uno schieramento con Russia Cina e Islam non so io se sia abbordabile dall'Occidente e fino a che punto per dire che i discorsi di geopolitica non stanno in piedi poi l'Unione Europea ma l'Unione Europea non è uno Stato è un'Unione di Stati che anche di fronte a una guerra potrebbe sfaldarsi ognuno potrebbe pensare ai fatti suoi e così con la divisione la Russia si mangia gli Stati uno ad uno poi ci sono anche quelli che tradiscono quindi alla fine c'è una fragilità del continente europeo che è proprio una fragilità che è una fragilità che stuzzica l'appetito e di chi vuol dominare e può stuzzicare l'appetito anche della Cina non per nulla i due Putin e Xi Jinping hanno stabilito fra loro un'amicizia eterna e anche esercitazioni militari congiunte l'Iran Xi'ita è già dalla parte loro quello che fa capo a Teheram è tutto l'Iran Xi'ita che fa capo a quella parte e sappiamo che i jihadisti da questo punto di vista concordano con i russi nel conquistare Roma come luogo dove innalzare la bandiera perciò vedete come è frastagliata la situazione per cui noi dobbiamo guardare a quello che ci dice la Madonna e cioè che che lei è qui come regina dalla pace e quindi può portare il mondo alla pace e la pace che la Madonna desidera è quella degli uomini con Dio prima di tutto con il nostro Dio o cioè con Cristo perché gli uomini siano fratelli fra di loro tutto questo avverrà attraverso una grande persecuzione alla Chiesa che ne uscirà vincitrice come ha detto San Giovanni Paolo II non c'è altro modo di rinnovare la Chiesa solo mediante la persecuzione come è accaduto in passato per cui alla fine cari amici alla fine fine alla fine fine è proprio ciò di cui noi non parliamo cioè la Chiesa Cattolica che è il vero obiettivo di Satana perché Satana vuole giungere il mondo attraverso la guerra ma subito vuole far fuori la Chiesa Cattolica allora quello che ci deve rincuorare è che la Madonna ci ha assicurato che la Chiesa Cattolica con il suo Papa Chiesa Cattolica Mariana il Papa Mariano che è il Papa della Chiesa Cattolica Mariana è il vero Papa quello invece che eseguirà l'apostasia è un falso Papa magari parlerà russo non lo so di cui parlerà quindi cari amici noi seguiamo questo noi stiamo con lo sguardo lì sulla regia della pace sulla nostra Chiesa Cattolica seguiamo fino all'in fondo questo è che ci deve spronare ci deve fortificare ci deve motivare in tutto il nostro comportamento che è difficile però la strama giusta è quella che mi pare che è questa insomma cioè seguire la regina della pace seguire la Chiesa Cattolica non c'è altro da fare che questo cari amici perché qui è la Madonna non è in altri posti bene cari amici così ho risposto a questa lettera di Paolo che è stata utile anche essa come stimolo a una riflessione adesso siamo arrivati al termine del nostro del nostro la nostra riflessione cari amici però prima vorrei leggervi la bellissima lettera che ha scritto Vincenzo ieri è una bella anima guarda che bella lettera che ha scritto di carattere spirituale che ho pubblicato su Brock con una mia risposta Carlo Padre Livio grazie per quello che fate e grazie a Radio Maria cerco di seguire i vostri insegnamenti ascolto la vostra radio ho notato che moltissime persone vanno di fretta veloci come per sfuggire a qualcuno e a qualcosa la mia persona la mia persona è in pace con se stessa e con gli altri non ho timore di ritornare alla casa del padre e quando lui vorrà la mia persona è pronta a rispondere alla sua chiamata con un sì sia fatta la sua volontà il ritorno il ritorno alla casa del padre è l'inizio non la fine queste cose voi me le insegnate e umilmente vi ringrazio nonostante si corre e ci si nasconda si fugge dal ritorno alla casa del padre tutti dobbiamo far ritorno ad essa le cose materiali non contano ma conta la bontà l'animo e il buon cuore di un essere umano non conta l'apparenza ma la carità l'umiltà la saggezza la fede la speranza tutte virtù che voi mi potete insegnare conta la pace del cuore mi scusi il mio parlare è uno sfogo umile grazie per quello che fate in Italia e nel mondo Vincenzo è una bellissima lettera a quale anche io ho risposto cari amici la trovate sul blog poi e sul blog cari amici magari lo leggemo domani perché non ho mai il tempo scaduto sono già arrivato all'ora cioè un nostro ascoltatore dal libro dell'autobiografia di Miriana ci ha inviato un brano molto bello dove Miriana ci dà i consigli per come affrontare il tempo dei segreti una bellissima pagina che io commento per un approfondimento quindi chi vuole andare nel blog per leggere questi consigli della vicenda Miriana per il tempo dei segreti e anche la mia riflessione al riguardo va sul blog di braderivio punto it se usate google oppure se usate il sito ad esempio tweet in alto in alto ci dicono dei blog entrate domani cercherò di trovare il tempo per leggere a tutti questo brano del libro di Miriana su come affrontare il tempo dei segreti e anche la mia risposta completamente di ringraziamento ecco cari amici c'è una novità c'è una novità cioè quando io vi ho letto e spiegato brevemente quelle pagine del catechismo della chiesa cattolica che parlo del di là qualche giorno fa l'ho fatto ho fatto un editoriale per questo ho ricevuto molte lettere molti email di approvazione di ringraziamento e anche di incoraggiamento a riprendere il catechismo della chiesa cattolica io cari amici per quanto riguarda il catechismo della chiesa cattolica a suo tempo ho fatto ben 800 800 trasmissioni di mezz'ora l'una quindi un patrimonio enorme che adesso vi metto a disposizione perché a partire da stasera alle 18 e 10 minuti cioè 6 un quarto di sera alle 18 e 10 minuti sul mio blog comparirà un video che vi trasmetterà tutti i giorni compreso il sabato e la domenica due puntate del mio commento a catechismo della chiesa cattolica due puntate sono un'ora quindi dalle 18 e 10 alle 19 e 10 a partire da stasera potrete ascoltare fino che Dio vorrà quelle 800 lezioni sul catechismo della chiesa cattolica che vi ho fatto e saranno due al giorno quindi da stasera solo sul mio blog potete cioè abbiamo pensato di utilizzare ancora di più il blog di quello che è utilizzato in modo tale che diventi un supplemento anche alla radio e così per quelli che hanno la buona volontà poi naturalmente queste lezioni man mano che vengono trasmesse dal blog sotto forma di video vengono poi catalogate dal blog stesso e nella sezione del blog dedicata alle catechesi le potete ritrovare anche per poterle magari non potete in quel giorno non potete in quell'ora potete risentire man mano che verranno trasmesse vengono catalogate messe a disposizione e potete risentirle ok cari amici questo dunque è una novità importante e va sfruttata perché la nostra conoscenza dalla fede è molto pressapochista cari amici e dobbiamo almeno aiutare le persone di buona volontà che vogliono approfondirla con questo terminato carissimi vi do l'appuntamento a fare qualche minuto con il nostro bellissimo libro Meggiugorie i tre giorni della salvezza è un libro che ha avuto una grande accoglienza da parte vostra vi ringrazio settimana prossima ne inizieremo un altro intitolato è di spiritualità il prossimo come vi ho promesso alterniamo la teologia della storia con la spiritualità il prossimo libro è intitolato quello dei parole della madonna guardate al volto di mio figlio guardate al volto di mio figlio il titolo del prossimo libro che incomincieremo credo a metà della settimana prossima appena ci arriva ve lo faremo vedere e vi appunto descriveremo ringraziamo Dio per tutti i benefici che ci dà la madonna ringraziamo la madonna per la sua presenza per tutte le grazie che ci dona e grazie anche per il vostro aiuto che date a radio maria che è importante carissimi per andare avanti perché come vedete perché la sua parola arrivi in tutte le parti del mondo e ha trovato questo strumento meraviglioso che è radio maria quindi è diciamo assolutamente assolutamente diciamo necessaria anche questa radio fra i tanti mezzi che la madonna ha scelto per il trofo del suo cuore immacolato con questo terminato e vi auguro vi auguro ogni bene e vi do la mia benedizione buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti